Il sindaco di Falerna, Giovanni Costanzo, ha convocato 11 sindaci del comprensorio Lamettino per un incontro su un dibattito sollevato dall'onorevole Galati su una possibile costituzione di un unico grande comune della Piana. Ci sono stati autorevolissimi interventi anche sul giornale di Consiglio regionale, c'è l'onorevole Scalzo, l'onorevole Galati, tutti e due spingono i sindaci a valutare con molta serietà questa proposta. Sicuramente i benefici sono innumerevoli. Il fatto è che queste cose non si fanno giustamente per decreto, e questo qua lo sappiamo tutti, gli addetti ai lavori, ma anche i singoli cittadini. Sarà sicuramente, se si ha voglia di iniziarlo, un percorso lungo. Quello che però possiamo fare da oggi, da oggi stesso, è quello di riprendere una fortissima politica di coesione di quello che è il nostro comprensorio. Abbiamo già degli strumenti, abbiamo la multiservizi, che deve essere fin da subito rimessi in campo come una risorsa di un intero comprensorio, e non solamente della città di Lamezia. Ecco, si spera che oggi, fra un po' inizierà questo dibattito libero fra sindaci, porti a questo buon inizio. Cominciare dagli strumenti già esistenti, il piano di zona per quanto riguarda i servizi sociali, ma soprattutto la multiservizi, perché questo territorio ricominci a sentirsi all'interno di una realtà omogenea e solamente grazie a una politica condivisa si può portare veramente allo splendore che merita. Abbiamo ritenuto di aprire un dibattito con una proposta a tutti i sindaci di valutare le opportunità che oggi danno la possibilità della unione fra comuni, che nasce non soltanto da un'esigenza di tipo per creare visibilità al territorio, ma anche per le opportunità che oggi offre il testo unico sugli enti locali, che ci ricorda anche la necessità che tutti i comuni si esprimono, che poi ci sarà, deve essere un referendum confermativo, ma che mette anche in condizioni importanti. Oggi si va verso, in molti casi, se pensiamo che negli ultimi quattro anni in Italia c'è stata la fusione di quasi 100 comuni, quindi significa che c'è una tendenza che va in questa direzione, sia perché le difficoltà amministrative ed economiche dei comuni sono tante, sia perché ci sono le opportunità, ricordiamo anche i benefici fiscali e i benefici finanziari, che sono proprio previsti all'interno del testo unico sugli enti locali. E quindi io credo che in questa realtà, che è una realtà centrale della Calabria, quindi non avrebbe solo l'obiettivo di realizzare un'unica città, ma secondo me è anche un obiettivo per rendere più baricentrica la Calabria. E quindi credo che sia opportuno aprire questo dibattito e quindi ringrazio anche i sindaci che ad un momento hanno voluto creare questo momento di discussione.